Sono nascosta Oddio c'è un tizio che sta fischiando Mi sa che l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso L'ho preso, oddio Poverino Oddio già l'ho trovato, già l'ho trovato, mamma mia Già l'ho trovato, sono un mostro Ok, Zoe, dove, madonna Ma poi un ufficio gigante Non ci sono È vero, è vero, è un ufficio gigante Chissà quante cose dovrei toccare prima di trovarmi Allora, secondo me Sarai Oh, ho visto questo che si muoveva Sì, giusto? No, non è vero, sto morendo io, ok Qua niente, qua niente Io comunque ho visto un tizio che pischiettava Ecco come effettivamente ho trovato uno di voi Ma oggettivamente parlando Come cacchio faccio, cioè, a trovarvi? Cioè, devo necessariamente cliccare a caso? Sì Devi toccare gli oggetti che ti sembrano un po' sus Ok, 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 ok Dico questo! Dove sei? Oh, ti ho trovato, ti ho trovato! Ti ho preso, ti ho preso! Oddio, 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 ti vengo a prendere io, ti vengo a prendere io Dove sei? Si è scappata No, non ci ho preso, annaggia a te Ti ho già preso? Ah, ok, perfetto No, ma quella mi ha spinta e mal trovata Ma io non ci posso credere Io sto intanto Tipo, mi ha passata di sopra Mi ha spostata e mi ha guardata Oh, mi ha trovato! L'ho preso Fortissimo Non lo so Come faccio a capire quando li prendo meno Che scompaiono a caso Oddio, l'ho trovato a caso! Scompaiono! Oddio, l'ho trovato! Oddio, sono un mostro! Sono un mostro! Oddio, ma sei il migliore Il migliore e il più bravo Il più bello di tutti pure Ok, cambiamo Andiamo a gironzolo Qua ci stanno due computer Che secondo me uno è fake No, non è vero Assurdo questa cosa No, no, sono reali Ok, ok Ma tu mi stai aspettando? Riesci a aspettarmi? No, io sto giocando Come stai giocando? Ah, perché diventi Ah, perché quelli che vengono trovati Diventano quelli che cercano Ok È certo Ma ne mancano due Com'è possibile che ne mancano due? Non sto trovando nessuno Uno ne manca Oddio, sto per creparci C'ho paura Dai, ne manca uno No, tranquillo Non ti spaventare Ne manca uno Ti devi spaventare No, non ti devi spaventare Eh, dai, però Dove cazzo? Sto guardando Eh, le parole Oddio, scusatemi Io Ecco Io sto guardando Ogni minimo Dettaglio Ma non trovo niente Non è che sei andato sotto un tavolo Puoi metterci sotto i tavoli Ma non ci si può No Ah, ok, ok Strana sta cosa Eh Qua non si trova niente Ah Io sto per morirci comunque in tutto questo Oh no Ma io ho guardato ogni ufficio Ma è uscito dalla mappa Per caso Ma infatti Com'ha fatto? Beh Ah, sarà un mastermind Secondo me Per essere così Sarà uno che si chiude In questo gioco Da Boh, millenni Infatti Ma cacchio Non c'è nessuna parte Dov'era? E la cuore Dov'era? Davvero? Quindi siamo stati Scarsi noi, Zoe Siamo stati Scarsi noi? Sì Ma io lo dici? Siamo scherzi Spalise Uffa Comunque ragazzi Benvenuti in questo risultimo video Siamo qua In questo nuovo gioco Si chiama Nuovo non tanto Blockbuster No Propant Blockant Blockant Blockbuster Blockbusters No Quelle Ghostbusters La cosa Ce la faccio Fai Sì Ora ce la faccio Forse Ok Adesso aspettiamo il prossimo Intanto Provo fare Questo Orby Mamma mia Ti giuro Non ci riesco Sono scemo Ok L'ho quasi finito Ok ci sono Guarda Guarda dove sono Dove si va da qua Ah questa corda Ah ok Non capivo Madonna Ok Io l'ho finito Sono la più forte Ora arrivo pure io E ti butto giù Ma non Mi tipa indietro Ora lo rifaccio Ah ok Non devo saltare Ok Bene 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 Ok Dai 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 Prima che starte la partita No sta startando Prima ti ho preso una monatina Cosa Ah sono blu Sono blu pure io Ok quindi dobbiamo nasconderci Ok Esatto Trambi Facciamo una cosa Facciamo una cosa Troviamoci in un punto Ok E andiamo insieme Vieni Dove sei Qua Ti vedo siamo tutti uguali Sono qua Andiamo in fondo al colito Io sulla destra E vediamo di nasconderci lì Ora vedi che ci prendono Siamo i primi ad essere presi Sicuro Mamma mia Ok Ok quindi adesso Io se clicco qua Ah di fatto Oh sbrisbri Vieni facciamo tavole e sedia Vieni 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 Tavole e sedia Dai È vero Devoci dritti Ok mettiti Mettiti bene Oh Mi sono sportissimi Ok mi sono messo bene Mettiti prima persona Per metterti bene Ecco Nozo è È perfetto Mamma mia È perfetto Ah Mi hai dato un calcio Ok Ok Ora è perfetto Ora è perfetto Dai non ci scopriranno mai No Ora quello che dobbiamo fare Siamo troppo perfetti Quello che dobbiamo fare È stare fermissimi Ok Siamo dove stare fermi Ma siamo troppo perfetti Siamo messi bene Ok Allora Uh Ok Oddio aspetta ma sto storto Ok no non sono storto Meno male Allora Quindi Adesso Io voglio Io però sto curioso di vedere Se c'è qualcuno Oh posso vedere Oh posso vedere qualcuno Se entra Con la visuale Posso mettermi con la visuale Che se c'è qualcuno Che entra Ma ancora non c'è nessuno Ancora non sono Dai ma siamo troppo perfetti Non ci rueranno mai Esatto C'è tra tutti i banchi E le sedie Cioè noi credo Sì infatti Siamo quelli messi meglio Al favore Dai Al favore Ecco Oh Oh Niente 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 Stavano per entrare Vabbè intanto Sai Dian Cosa mi racconti Ma niente Tavolo Io ho visto tanti sederoni Oddio Io ho visto tante penne Tante tette Che si appoggiavano Sopra di me Ovviamente È una scuola Oddio perché li si affischiettare Questa cosa Eh perché puoi fare Taunt A sinistra E che fa L'ha fatto il computer E niente Fa il Quindi tipo Da un indizio A quelli che cercano E praticamente È per prendere un po' in giro Perché se tipo Non ti trova Tipo Ok Mannaggia Allora ci stanno pure Gli scammers Scammers Ok Ok Intanto ragazzi Ovviamente Lasciate like Per altre nostre avventure Di Roblox Perché non sono venite qua Perché Oddio si è mosso Quel pazzo Ma vieni sopra di noi Vieni sopra di noi Zio No 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 Perché se magari Poi per prendere lui In realtà Prende te Eh se prende te Prende me Se prende me Prende te Eh capito Oddio Oddio Per quanto siamo fortunati Zoe secondo me Arrivano subito Verso di noi Proprio fregandosene Tutta la stanza Che poi invece di due Seekers Ce n'è solo uno adesso Cioè ora che eravamo Perfetti I Seekers fanno schifo Si è ammorfato Ora si è messo una sedia Quello Non gli piaceva Essere un computer Esatto Dai ma poi non riesci a trovare Neanche nessuno Questo dizio Guarda Ma dai ma Ci abbiamo fatto Una combo perfetta E adesso non abbiamo Neanche l'opportunità Di sperimentarla Esatto Che cosa triste Sai cosa Andiamo a correre in giro Però dobbiamo stare Sempre attaccati Tipo insieme Pronta Dove fai Basta Lasciami stare Dove cacchio è Dove sei? Chi sei? Questa che sta Ok Cioè ma dai Ma tu è il bro Si credi di notte eliminate Dai ma questo qua è l'fk Dai Ce l'ho chiesto quello Madonna dai Ma è una gioia proprio Eravamo perfetti Ok io provo adesso ad andare a A finire i lobby allora Che ci sono Ma io sono caduta Ok 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 Sono Niente Che mi dice Se sto male Pensando ti Se Boh Ma poi non mi ricordo più Va bene Dai Mamma mia Questo hobby è veramente complicato Sono più complicati Delle modalità Proprio Per hobby Ma io ho finito un sacco di volte E dai Ok ci sono Ok ci sono Ok devo Ci sono Gesù No l'ho fatto cadere un tizio Dai 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 Ci sono io Ok Dai Allora questo è il prossimo Via Mamma mi stavo cadendo Io sono prima di te Dalto onde House breezer Ok Dalto onde We are frogs No 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 Ah ma appena prendi la No dai Ma io non vai in a gioia Ne riesco Sono quello che devi cercare Mamma mia adesso ti trovo zoe Madonna No 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 Non mi trovi Non mi trovi Non mi trovi Ecco 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 Ok 28 secondi Allora innanzitutto Cosa Allora Se sei un ufficio Dove solitamente ti andresti a nascondere Diventeresti una sedia A te piace diventare la sedia Vero Eh Oppure diventeresti anche un computer Perché a te piace giocare al computer Oppure diventeresti una mattonella Sì Mattonella per così a casa Sai cosa sono? Sono una mattonella Ok va bene adesso vado Ok Beh vabbè madonna l'IKEA mi doveva capitare a me Vabbè Ma perché capiti sempre Seeker Ma in realtà Sì beh effettivamente su C'è un tizio che spazza sanno Ma guarda quel tizio Ma quel tizio Ma mori zio Boh Se vai Avete visto eh Sì Eh vabbè basta allungare la visuale O ovunque io sia lo vedo C'è anche una piantina che si muoveva prima Oddio Qual è la piantina che si muoveva? Ah aspetta Nelle piante Ah la piantina Nelle piante Allora vado nelle piante Sì Clicco qua Non c'è nessuno Clicco qua Non c'è nessuno Clicco qua non c'è nessuno Anche una tv però l'hanno appena trovata Qua non c'è nessuno Io qua non c'è nessuno Qua non c'è nessuno 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 Dove sei? Dove ti trovi? Chi lo sa? Dai Qua non sai Who knows? Ah sei qua per caso? Sì Ah Ti ho vista Cosa hai visto? Scusami Mannaggia Ci ho provato Dai Guarda qua ci stanno i lavoratori che Ti giuro No ma è impossibile È impossibile Però queste lampade sono troppo vicine tra di loro Sì infatti sono una delle due Non è vero? Prova a cliccarla più volte magari No ma è giusto Ci sto morendo Ci sto morendo Ci sto morendo Come faccio a riprendere vita? Buu aspetti Ma come fa? Aspetta ma qua c'è un'altra stanza Palesemente qua c'è qualcuno Sono morto Mi hanno trovato 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 Mi hanno trovata Sei morto Sono morto perché cliccavo troppe volte Aspetta mi Aspetta mi E non posso aspettare Become Seeker No Ah become Seeker Ah no non posso No dai mi hanno trovato Ero sotto Dai Perché mi non Era una padella Aspetta spendo 75 euro Per diventare il Seeker Ok Mannaggia Ero una padella Oh sono ritornato Invita No Sbri Ero una padella E mi ero nascosta Sotto terra Tipo Cioè no sotto terra Sotto una scaffale Ah Cacchio E quindi Perché tipo quel tizio No perché quel tizio Mi aveva vista Ti hanno preso Ti hanno preso Sì però dico Siccome quel tizio Mi aveva vista Peccato Eh tipo Eh sì Tipo Mi ha fatto Io sono scappata Sotto il tavolo Però tipo Poi niente Mannaggia Cosa che abbiamo capito Che non c'è nessuno E niente Dai Una sedia E' una pazza Va bene Cioè ma perché Deve non rompere a me Vieni qua Vieni Ragazzi mi raccomando Lasciate like Guardate queste altre Nostre avventure Se questo video vi è piaciuto E noi ci vediamo In un prossimo Nevisimo video Ci si becca Ciao 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 Ciao